La partita è importante soprattutto perché c'è la classifica, la nostra classifica e noi dobbiamo fare il possibile per fare una buona partita e un buon risultato. Questa è l'unica cosa a cui sto pensando, i miei ricordi, il mio passato sono importanti, ma sono una cosa personale. Quello che conta in questo momento è la squadra, la classifica, siamo negli ultimi due mesi, quindi dobbiamo tirar fuori tutto il meglio che abbiamo per cercare di fare bene domani e tutte le volte che scenderemo in campo da qui alla fine. Per quello che riguarda invece i nostri problemi, affrontiamo la trasferta fiduciosi comunque e guardiamo avanti. Asa fanno sempre bene, hanno costruito la loro classifica che per il momento è serena, l'hanno costruita soprattutto in casa, noi li affrontiamo in casa loro, hanno vinto dieci volte in casa, quindi vuol dire che sono bravi. Vincere dieci volte in casa non è così semplice, quindi ho molto rispetto e considerazione nei confronti di una squadra che ha degli ottimi elementi, dei giovani giocatori, dei giocatori esperti, che in casa si sono sempre espressi a direi ad altissimo livello perché se avessero fatto bene anche fuori probabilmente avrebbero la nostra classifica o forse anche meglio. Basta, è tra i convocati e dovrebbe essere disponibile e questa è una buona notizia insomma. Non abbiamo festeggiato, mi sono trovato una torta oggi nel nostro ristorante, ma io ci tenevo perché per me è motivo di grandissimo orgoglio avere tagliato questo traguardo, ma veramente grande soddisfazione per me averlo fatto anche qui perché io ho più di cento panchini a Palermo, più di cento panchini a Vicenza, più di cento panchini a Bologna e avere fatto cento anche qui per me è motivo di grande soddisfazione.